A voi tutti cari amici ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis, torna il motivo dell'estate, quello principale, poi ci sono state tante variazioni, lo sappiamo, tornano quindi dei rovesci, qualche temporale su zone soprattutto alpine, con locali sconfinamenti sulle pianure più settentrionali, sul resto del territorio qualche nuvola irregolare in transito ma nel complesso abbastanza tranquillo. Insomma torna il vecchio motivo, questa è la previsione per la giornata in questione, le temperature non faranno registrare grandi cambiamenti nelle zone dove ci saranno delle nuvole, anzi diminuiranno un po', tenderanno invece di contro lievemente ad aumentare su zone dove prevarrà il sole. Per il momento mi fermo qui, davvero non c'è altro da aggiungere, noi ci riaggiorniamo presto, rimanete con noi e arrivederci.